Uomini e donne, le reazioni del cast alla di Costanzo, Ida, Maria non sei sola. La notizia della morte di Maurizio Costanzo addolora anche il cast di Uomini e Donne. In queste ore sono stati i volti della trasmissione di Canale 5 che hanno voluto lasciare un messaggio di cordoglio e affetto per la conduttrice, Maria De Filippi. Oggi, venerdì 24 febbraio, l'ufficio stampa del celebre giornalista e conduttore televisivo ha annunciato la drammatica notizia della sua dipartita, lasciando senza parole tutto il mondo dello spettacolo e della televisione italiana. Tanti i messaggi di cordoglio e affetto che, in queste ore, si possono leggere sul web e sui social da parte anche dei volti di punta di Uomini e Donne. I protagonisti della trasmissione di Maria De Filippi si sono stretti al dolore che sta provando la conduttrice del talk show assieme alla sua famiglia. Tra questi vi è Ida Platano che, tra i primi, ha voluto postare un messaggio di cordoglio su Instagram. Con una dedica speciale anche alla padrona di casa. Ciao Maurizio. Oggi ci ha lasciato un pezzo enorme della storia italiana. Riposa in pace. Anima bella, ha scritto Ida nel suo messaggio di addio per il conduttore re del talk show italiano. Le mie più sentite condoglianze per questa perdita. Maria non sei sola, ha aggiunto ancora Ida Platano che ha voluto così postare un messaggio di affetto anche per la padrona di casa di Uomini e Donne. Anche Riccardo Guarnieri ha voluto affidare ai social un ultimo messaggio di addio per il conduttore venuto a mancare in queste ore. Icona della televisione e del giornalismo italiano. Non dimenticheremo mai il tuo coraggio nella notta contro la mafia e numerosi altri argomenti della nostra Italia. La sigla del Maurizio Costanzo Show non smetterà mai di suonare per noi, ha scritto il Cavaliere di Uomini e Donne su Instagram. Ciao Maurizio, invece, è stato il messaggio social che ha scelto di postare sui social Gianni esperti. Il celebre opinionista del talk show pomeridiano di Maria De Filippi, per anni componente anche del cast di Buona Domenica. Lo show del pomeriggio festivo di Canale 5 è condotto per svariate edizioni da Costanzo. Intanto è stata resa nota la data ufficiale del funerale di Maurizio Costanzo, l'ultimo saluto al conduttore avverrà il prossimo lunedì 27 febbraio. Con una cerimonia che si svolgerà dalle 15 in poi, presso la chiesta degli artisti di Piazza del Popolo a Roma. La cerimonia sarà trasmessa anche in diretta televisiva sui canali Rai. La cerimonia che si è stato in fort, la come comfort, in treaba asta lui è un loc de comfort, rigor, ci-o mor tot. Sunt un crucișător, lansand rachete aerosol, inca de când el era broke si se usa de aerosol. De când avea mall, de când nu știai ce uniscol, de când ascultam gangsta rapper bază pe pistol, dacă nu înțelegi textul suno pe Irina Nistor, vă întâlniți in tristor la zero grade viscol, nu tac nici stins mort, o să m'auzi prin sol, transpir hip-a prin pori, Bile mari, zi-mi tor, că știi că după trimi ciocan umane, înspre cer și dau jos carul mare Astrologii au treabă ca urmare, sunt dus cu capul, dus cu capul, zic, jos pătescu, jos ponta, sus cu rapul Ambiție, tradiție, asta m-a dus cu rapul, de când mai toți ziceau că...